Yu-Gi-Oh a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi, come prima della release di ogni prodotto, andremo a vedere se conviene o meno acquistare l'incredibile prodotto che la Konami vuole darci per il 25esimo anniversario, ovvero la nuova Legendary Collection. Ovviamente prima di iniziare vi ricordo che se dovete liberarvi di carte di Yu-Gi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force Will e Digimon trovate il mio Instagram qua sotto in descrizione. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se vuoi parlare. Detto questo, andiamo alla domanda fondamentale. Conviene o meno acquistarlo? Sì. Ma. Ora vi spiego. Questo prodotto uscirà ufficialmente il 20 aprile, quindi io sono palesemente in ritardo con il video, e verrà rilasciato in tutto il TGC, tranne in Nord America che lì lo avranno un giorno dopo. Questa Legendary Collection è molto particolare. Al suo interno possiamo trovare la reprint di Seipak Vintage, ovvero Legend of Blue Eyes White Dragon, Metal Rider, Spell Ruler, Pharaon Servant, Dark Crisis e Invasion of Chaos. Penso che ovviamente non servano altre spiegazioni perché comunque, se avete la mia età, li conoscete tutti. In aggiunta poi avremo un pacchetto con 6 promo dove all'interno troveremo le 3 divinità egizie, il Drago Nero, il Drago Bianco e il Mago Nero. In più una di queste con la rarità del venticinquesimo. Bene, detto questo, iniziamo a distruggere questo prodotto. Allora, punto primo. Se avete la mia età, e credo di sì perché il target del mio canale è 1834, vi sarete notati che questa descrizione può essere rapportata a un prodotto uscito alcuni anni fa. Tipo questo. Perché ovviamente abbiamo le promo delle 3 divinità. In più all'interno avevamo lo spazio per i 6 pacchetti. Gli stessi che ovviamente verranno riprendati in quella nuova. La differenza è che in questi non c'era il logo del venticinquesimo. In più, se non erro, ci stavano anche il Drago Nero, il Drago Bianco e il Mago Nero con gli stessi art. Ovviamente la differenza con questo prodotto è che, se non sbaglio, veniva a costare una cosa come 40 o 50 euro all'epoca. Non voglio di cavolate, ma mi sembra costasse di più. Mentre questo nuovo si dovrebbe girare tra i 20 e i 32 euro. 32 lo so, è veramente tanto, ma la fumetteria dove vado io l'ha messi a questa cifra e mi chiedo, li vuoi vendere o no. Nel caso, quando usciranno, fatemi sapere qua sotto con un commento quanto l'avete pagato. In più, in quello nuovo, sai, ci stanno le carte con il logo del venticinquesimo, tutte belle sbrilluccicose, con la rarità tipica delle Starlight. Bene, a me quella rarità fa sboccare. Ragazzi, so di essere un controsenso vivente, ma le carte del venticinquesimo le collezionerò tutte solo per quello mio. Però, ammetto che la rarità fa schifo. La seconda cosa che proprio non sopporto di questo prodotto è la rarità delle carte e il tipo di stampa. In che senso? La stampa e le rarità di queste carte sono differenti, nel senso non è che una carta che doveva essere super l'hanno fatta secret, assolutamente, perché altrimenti avrei bruciato la Konami se avessero fatto una cosa del genere. Quello che è cambiato dai pacchetti di vent'anni fa è la tipologia di carta che non è ovviamente la stessa, si capisce al tatto, questa si rovina solo a tenerla in mano. In più, anche la rarità è differente. Come ve la posso spiegare? Se voi prendete due carte di due print differenti, ovvero quella della prima edizione o della seconda, che se non è riuscita nel 2000, no nel 98 scusate, e la print del 2010 qua dentro, si nota e di che tinta, perché anche il colore della stessa carta, esempio, io ho due giudizi solenni, il colore della carta, il rosa fucsia, è leggermente differente. Questa cosa nei video anteprima, usciti settimana scorsa, secondo me si nota ancora di più, sia sulle super, che è una cosa vergognosa, che sulle secret, che secondo me sono una cosa ancora più vergognosa delle super, in quanto hanno messo la foilatura anche sull'attributo, cosa che 25 anni fa non esisteva, una roba che è stata aggiunta negli ultimi anni. Considerate che un po' di video anteprima io me li sono visti, e se non sbaglio, o Litium o Simo avevano sbustato un Ginzo Secret da PSV. Il problema è che quella carta mi ricordava più la print di Speed Duel che quella di PSV. Ragazzi, un secondo cosa importantissima. Prima di fine anno vorrei tari 5k qua su YouTube e sarebbe una cosa incredibile senza senso. Se volete supportarmi, il like, l'iscrizione e il commento sono una cosa più importante da fare. Grazie a tutti per chi lo farà. Adesso mi potreste dire, ma, cappello, scusa, anche qua dentro i pack erano stati ristampati e la tipologia di stampa non era uguale. Io ce l'ho le carte che uscivano da qua dentro. E la stampa era più simile a quella del 98 che a quella attuale. Da una parte sono contento perché comunque non si va a perdere il valore del vero vintage, del vero collezionismo del 98. Dall'altra mi dico, cazzo, vedo la stessa dicitura della carta ed è un'altra roba. Un po' una merda. Nel senso, fossi stata la Konami, ci avrei messo qua giù in basso la scritta 25esimo anniversario, al posto di lob-it000. Non lo so. Diciamo che è una cosa che mi fa rimanere un po' con l'amaro in bocca, se devo dirvela tutta, eh. Diciamo che l'avrei apprezzata di più se la Konami l'avesse sparata veramente grossa. In che senso? In primis avrei preferito che comunque la dicitura della carta fosse stata di un'altra espansione. Nel senso, mi ci scrivevi che comunque è una print del 25esimo, perché questa è tutta roba, anche quando usciranno i set, che si ammucchierà su Car Market nella sezione Lob, PSV, PMT, e quindi renderà molto difficile trovare le carte giuste. Capisco che tu mi voglia vendere questo prodotto come fosse il continuo di Lob, ma non lo è, perché, cazzo, è una reprint di vent'anni più tardi. Non è Lob. Nel pacchetto in sé mi hai messo il logo del 25esimo, quindi che senso c'ha rendermi le carte uguali a quelle vecchie. Come seconda cosa, le promo. Ragazzi, le promo sono veramente brutte. Ovviamente non parlo di quelle con la filigrana al 25esimo, che comunque alla fine ci sta. Dico proprio che invece di darmi le solite promo, mago nero, drago nero, drago bianco, lettere divinità, cazzo, su Rush Duel la Konami ha iniziato a fare full art. Perché non importare questa cosa anche nel gioco attuale, cazzo, ce l'hanno tutti. C'è la Pokémon, c'è la Magic, c'è la Dragon Ball, One Piece, Digimon, tutti c'hanno le full art. Cazzo, Rush Duel è sempre vostro. Non capisco la necessità di dover rimanere per forza nei bordi. Cioè, come promo del 25esimo anche mi ci scrivevi in basso non giocabili, visto che non è la prima volta che lo fai, e mi facevi una fighissima full art. Del mago nero, del drago bianco, del dragonero, delle divinità. Rendevi proprio queste carte iconiche da collezione solo di questo prodotto. E invece, boh, hai preso il cuore dei giocatori e l'hai spezzata a metà in quel momento. Boh ragazzi, io adesso non sto qua a far il boomer, però, cazzo, ho visto le promo e ho detto, ah, ok, ancora queste. Boh ragazzi, io non so più che pensare, nel senso la Konami c'ha un fatturato dei miliardi, c'ha un'infinità di artisti che lavorano alle carte. E poi? Ah, cazzo, per le promo del 25esimo le stesse carte che abbiamo già fatto. Ma a questo punto non conveniva fare delle import importanti a livello collezionistico che da noi non sono mai arrivate? In Giappone per il ventesimo anniversario, se non sbaglio, era uscito un artbook di Yugi con tutte le illustrazioni di Kazuki Takashi. Ok. A parte che potevi farlo uscire pure in Italia. E va bene. Ma all'interno, se non erro, o lì o su un prodotto sempre per il ventesimo, usciva un exodia firmato da Kazuki Takashi. E, se non erro, dovrebbe essere l'unica carta, autografata da lui, che non è uscita neanche in lingua inglese. Io mi chiedo, siamo al venticinquesimo anniversario. Kazuki Takashi è morto l'anno scorso, se non sbaglio, o i primi due di questo, ma credo l'anno scorso. Non poteva essere una buona idea importarla, non lo so, eh, da noi, diciamo per commemorare la sua morte? Altrimenti paghi a qualcuno, fai un artwork alternativa delle carte più iconiche e stiamo a posto. Non mi sembrava impossibile come cosa. E invece sempre la solita minestra riscaldata. Soprattutto poi, per quelle del venticinquesimo, con una rarità neanche bella, perché hai preso la rarità Starlight, non hai fatto niente di incredibile e fuori test. E invece ci siamo adagiati sugli allori con una rarità che già esiste, quella Starlight, e la filigrana con la scritta del venticinquesimo, che è la stessa utilizzata per la collab con Adidas. E questo mi sembra una cosa stupida e nel pratico senza voglia di mettersi in gioco e fare qualcosa di carino. Poi ci incazziamo se ci vengono a dire che Pokémon ce la mette nel culo. Eh, ragazzi, certo che ce la mette nel culo. A parte che, vabbè, Pokémon ha fatto robe terribili come le Black Gold e le cartelle LGBTQ+. Però, dopo ha capito, forse abbiamo sbagliato, l'hanno eliminate e con i set nuovi hanno fatto le Galarian Gallery o le Full Art o tutti quei cazzo di quadretti che sono incredibili, che tu li guardi e dici, porca troia, io non colleziono Pokémon, ma sono talmente belle che inizia a sbustare. E invece Yugi fa sta roba qua. Cioè, ma un minimo in più di impegno me lo aspetto. Nel senso, non stiamo a parlare del disegnatore che lavora da solo e se fa 67 decarte. Qua stiamo parlando di un'azienda che fattura miliardi. E va bene, ragazzi, sì. Come l'ultima volta con Maze of Memories mi dovevo lamentare. Perché, ok, bellino il prodotto, però dai, dei difetti, cioè, ha dei difetti. Comunque vorrei precisare una cosa, se non si fosse capito durante il video, che io questo prodotto lo comprerò, lo sbusterò e comprerò anche le singole per completare tutte le carte con il logo del venticinquesimo, sia di questo prodotto che di prodotti che usciranno più avanti. Perché sì, ne usciranno altri. Ah, una cosa. La Konami ha detto che questa sarà l'ultima volta che riprenderà i set vecchi. Quindi, se volete fare una cosa come un piccolo investimento, uno, visto che costa poco, tenetelo sì. Non credo di farlo e me ne prendirò più avanti, però è importante che voi lo sappiate, così vedete voi quello che fare. Detto questo, ragazzi, state ben easy e noi ci vediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.